Cosa significa essere una coppia o no nella vita e poi fare anche rappresentazioni teatrali insieme? Beh, indubbiamente ci sono i lati negativi e anche quelli positivi. Io direi per esperienza personale sicuramente quelli più positivi perché ci si conosce talmente a fondo e questa complicità che poi c'è nella vita si traspare anche sulla scena. Poi nel caso di questa commedia noi facciamo proprio la parte di marito e moglie per cui portiamo veramente dei pezzi della nostra vita sulle tavole del parcoscenico. Francesco, quindi praticamente state sempre insieme, non smettete mai. Così ci mandiamo a quel paese, sia a casa che sul parcoscenico, così per non perdere il ritmo. È andata così il titolo di questa commedia. Mi raccontate i vostri personaggi, Francesco, partiamo da te. Beh, più che personaggi è una famiglia. Siamo io, Emanuela, i bravissimi Eugenia Costantini e Alessandro Marverti che fanno i nostri figli ed è una commedia che ha scritto Giacomo Cerrapico che è un autore contemporaneo con cui ho lavorato tanto essendo uno dei tre autori di Boris, tre serie e un film. E quindi quando abbiamo ipotizzato di fare un progetto insieme teatrale mi sono rivolto a lui perché è un autore che sa graffiare la realtà moderna in modo molto felice. Sono la figlia, se mi chiamo Bianca, sono la sorella grande di lui. Io sono intelligente e lui è stupido. No, non è vero. In teoria la storia si presenta così, che io sono un po' quella più razionale e lui è il tontolone della famiglia. Poi in realtà nella storia, diciamo, l'evoluzione della storia racconta altro, però sì, ci presentiamo così. Alessandro, allora tu insomma cambierai questa storia. Raccontaci in che modo? Allora, io non sono stupido, sono il più intelligente dello spettacolo, no scherzo. Il personaggio di Giovanni in realtà è appunto quello che è considerato alla famiglia e il più ritardato, chiamiamolo così. Lo chiamano loro così, perché sono a fare brutti. Ma anche lei mi difende in realtà, dice che non sono stupido, però... No, è il personaggio al di fuori delle dinamiche e delle logiche razionali della famiglia e se ne frega come molti ragazzi ultimamente, ma comunque anche all'età dei vent'anni, lascia una spensieratezza nei confronti dei problemi della vita che possono essere anche economici. e quando viene chiamato a raccolta e gli viene inchiesto un consiglio, se ne sbatte e continua a sbatterse tranquillamente. Soltanto che, a differenza degli altri personaggi, che hanno una razionalità appunto molto forte, continua a cavalcare i propri sentimenti e vediamo che in realtà questa strada è quella che porterà alla svolta, a superare questo periodo di crisi. Il dato significativo, da quello che deduco, è legato al fatto che finalmente si parla di una realtà reale, scusatemi il gioco di parole, ed è importante non riflettere sul mondo, perché ormai purtroppo siamo quasi disabituati a riflettere, no Emanuela? Sì, beh, sì, siamo talmente presi nel vortice di tutto quello che ci accade, no? Nel bene e nel male, ma soprattutto ultimamente in questa crisi, che un anno non sa più cosa fare, per cui è presa da questo vortice, e invece questa ti aiuta un pochino a riflettere, a prendere in considerazione delle cose e a guardare anche al mondo dei giovani, a questo mondo che sta cambiando, in modo positivo, insomma. Infatti la crisi in questa situazione viene raccontata un po' così demonizzata e presa come un'opportunità per un cambiamento, ma per un cambiamento verso il meglio, qualcosa di meglio. Noi siamo quattro protagonisti praticamente, e la vicenda si svolge in questa casa e noi ce la viviamo tutta, tutte le sere. Quindi non ci resta che dire ai tuoi ascoltatori e telespettatori di venire al teatro Sala Umberto, ci sono ancora dei posti, ma sbrigatevi perché stanno per esaurirsi. Bravo ciccio! Perfetto!